La strada per la parità di genere è ancora molto lunga, quello che sta avvenendo in Ucraina lo insegna, ma quello che succede in Ucraina è anche il segnale della forza della donna. Io questo 8 marzo la voglio dedicare appunto a queste donne ucraine che sono in prima linea a difendere i loro figli, a difendere gli anziani, a sostenere i propri mariti che sono appunto lì sul territorio a combattere e che dimostrano la forza, il coraggio e la determinazione della donna. Una giornata per celebrare tutte le donne, ma anche e soprattutto una giornata di riflessione al femminile. In occasione della giornata internazionale dei diritti della donna sono tante le iniziative messe in campo dalla provincia di Arezzo che spaziano dal teatro alla scrittura, dall'arte pittorica sino alla musica e sono tutte organizzate dai comuni del territorio, dalle associazioni, dalle istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni sindacali e dalle cooperative. Ripeto, ancora la strada è lunga perché c'è una grossa disparità oggettiva per quanto riguarda il trattamento delle donne in ambito sociale, in ambito economico, il ruolo della donna nei posti di rilievo, che sia quello della politica, delle aziende, del mondo appunto del lavoro è ancora poco, il disegno è ancora enorme, c'è grossa difficoltà a dare la possibilità alla donna di dimostrare ciò che vale. Quindi deve essere questa una giornata sicuramente non solo di ricorrenza ma di riflessioni importanti. Nell'ultimo anno ci sono stati più di 342 ricorsi al codice rosso nella provincia di Arezzo, quindi la violenza di genere è chiaramente principalmente contro le donne ma anche trasversale contro minori e anziani. Quindi sicuramente l'allerta deve rimanere tale, bisogna fare di tutto, di avere un aumento anche di tutte le legislative, ma io ritengo che la cosa più importante per chiunque di noi sia il cambiamento civile, morale e mentale, perché possiamo fare qualsiasi tipo di legge, faremo e facciamo delle iniziative per sensibilizzare tutta la popolazione, in particolare i giovani che sono il futuro, tuttavia se non cambiano le menti con una giusta educazione qualsiasi altro intervento risulta essere parziale.